Vado a leggere, per quelli che si sono persi, la descrizione del titolo di qualche giorno fa Dollhouse è una storia horror simile a uno spaventoso film noir che ti farà senz'altro rabbrividire quindi noi siamo già intrigati perché rimetti insieme i pezzi del tuo passato ma attenzione, qualcosa di molto pericoloso ti sta dando la caccia Io fortunatamente ho la camera illuminata a giorno e adesso sono cazzi i vostri perché io ho la grandissima io ho la grandissima Facile, normale, difficile, estremo, dai normale Los Angeles, Hollywood, 1959 Mi chiamo Maria e questa è la mia storia come inizia e come finisce ma è scritto piccolissimo Basato su una storia vera No, no, eh no, niente eh niente, è rovinato tutto Qualità delle texture e a livelli inarrivabili Non hai ottenuto il ruolo ma sei stata in grado di fare altro Bene o male sei sopravvissuta, dice È passato un po' da quando sei uscita ma credo che ce la possa fare Qualsiasi cosa installiamo nel nostro subconscio e nutriamo con ripetizione ed emozioni diventerà un giorno realtà Ok Tutti i miei amici saranno così invidiosi non vedo l'ora di vedere le loro facce quando glielo dirò Non riesco ancora a chiedere che mia mamma sia una grande Maria la più grande investigatrice del mondo È davvero il miglior regalo che mi avrebbe mai potuto fare Entra e muore E benvenuti nel font di Bioshock Lei è quella cosa lì, quella che... No, no Quella col cappello Mamma mia, la sensibilità del mouse è improponibile Prendi la radio Sì, ma io non vedo una sega I tuoi ricordi sono stati infettati da diversi parti di lei Chi è lei? Non si fermano davanti a nulla per impedirti di ricordare È per questo che vediamo sfocato, perché ci manca... Scusa, perché testone ci abbiamo? Il tuo occhio è rotto, uso un chietto di riparazione per ripararlo Ma quindi siamo dei mecha Dirigisi verso la casaforte ed equipaggio un'abilità Non posso lasciarti andare in preparazione È veramente Bioshock Agile, ottieni energia infinita per 8 secondi Costo di uso 2, tempo di ricarica 30 Durato 8 secondi Allora, equipaggio questa ed equipaggio anche questa E rivela tutte le porte standard per 10 secondi Costo 2, tempo di ricarica 30 Durato 10, va Le sex doll? E sono tutte collegate alla signorina di prima, eh? E questo qui c'ha gli occhi tutti ravanati Il classico labirinto dei giochi horror Il punto dove sei morto l'ultima volta Questi disegni... Che sì! No, questa qua si... No, no, ragazzi no Non ce la faccio Quella lì sicuro, adesso mi corre dietro Mi fa il jumpscherone E io mi cago addosso Guarda Guarda la S, non è così No, 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 no Apri la porta Guarda che ce n'è altre No, 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 no Ho la torcia scarica Ah, io non mi muovo finché non si riaccende, eh? Non posso farlo, ok C'ha la Dinamo sta cazzo di torcia Sono delle angure, che cazzo è? Potevo aprirla questa porta? Per fortuna non ho abbastanza ricordi per entrare E Gabriele ha deciso che stasera enfatizza No, no, si è girata, eh? O è la prospettiva che mi frega? No, è la prospettiva che mi frega? Orecchio occhio Mmm, questa inginocchiata C'ha le mutandine anche Vicolo cieco? Sì E allora vaffanculo non ci... Che c'è? Cos'è sta roba? Una madonnina? Non posso usare il focus ora Per l'amor del cielo Però posso raccoglierla Eh, non me lo fa fare Niente, arrivederci Qui c'è il lato oscuro invece Si è mossa No, lo vi... Si è mossa Lei si è mossa al 100% L'ho vista Devo aumentare un po' la gamma? Eh? È tutto un altro gioco Eh, che cazzo... Che cazzo... Eh, si è mossa Perché si muovono? Ma scusa, qua non è da dove siamo partiti? Vaffanculo i labirinti Che cazzo li ha inventati? Guarda Oh, ok Ma cazzo, era dietro l'angolo Scusami Era lì... Vabbè Immagino che qui sia allucchettato E ci servono le chiavi C'ho una serie di oggetti qui sopra la crappa Ho una chiave su tre Che vuol dire? Raccogli una boccetta, mi dice Ma di qua c'è la stronza C'è... Ma c'è... Che... Che situazione di... Con i filamenti Vabbè, arrivederci Scusami, dov'è il noir? I disegnini sui muri fanno noir Facendo la luce che non si sa mai In realtà ho alzato talmente tanto la gam Devo seguire le madoni... Ma questa qui è Marilyn Monroe Posso inginocchiarmi? Non posso Ok, me l'ha data Un flacone No Raccogli abbastanza boccette per usare un'abilità Già il gioco mi sta mettendo dei dubbi Ah, io ho una chiave E la posso usare qui Ma qui dentro ci sono delle signorine Per carità Molto sexy Ma non ci voglio avere niente a che fare Un soldino Usabilità Ma sì, ma che abilità posso usare? Scusami Devo per forza Allora, uso agile Vai E corro rapido come il vento Gli abitanti poteranno sopravvivere in questo mondo Usale strategicamente Me ne hai fatta sprecare una Dimmi un po' se non sei stronza Ok, raccogli una chiave Ce l'abbiamo la chiave Ma lei vuole che ne raccogliamo un'altra probabilmente Ho preso una chiave Apri una serratura Che poi continua a parlare di sopravvivere a che cosa? Oltre ai miei stessi infarti Un'altra chiave Yes Sono il mastro di chiavi Lo scopo del gioco è non lo sappiamo Adesso lo scopriremo Scopo del gioco è vincere Come sempre Guarda i labirinti ogni volta Spizzicò Spizzicò So good Va tutto bene Tieni le chiave portate di mano Per sicurezza Vabbè Non puoi sapere cosa troverai Ma quanto Questa qui è stronza A che servito entrare qui? Scusami un attimo Raccoglio una scatola di gessetti Perché mi hai fatto aprire questa porta qui? Per farmi sprecare la chiave Guardate che questo non è un tutorial È un'inculata Mi sta facendo raccogliere E buttare via tutte le risorse che trovo Ah, forse disegnare serve Per non perdersi Adisegna sul muro Me lo dice proprio Ma su quale muro? Quello che mi pare È sulla madonnina È vandalismo Che? Ma sì, ho capito Ah no, dietro me l'ha fatto Ok Cancella il disegno sul muro Tiè Raccoglio una batteria Lo so che prima o poi Qui qualcuno mi tira un'inculata Usa il flash Per disabilitare una trappola Eh? Scusi signore Che paura Ma sei scemo kiddo? Sicuro Appena finisce il tutorial Le bambole iniziano a muoversi Al 100% Già si muovono Perché sono stronze Ah, questa è una trappola Mi dice Usa il flash per disabilitare Cosa vuol dire il flash? Cioè faccio una foto Usa il flash su un manichino Mi dice Non lo voglio fare Proprio un'idea pessima questa Vai a rompergli i coglioni Sono persone che lavorano E che hanno i loro cazzi Queste qui Non finisce bene Mi ha fatto sprecare due batterie Usa il flash per rimuovere un blocco di memoria Ah, sotto di me è vero che si vede qualcosa Sposto la cam Scusatemi Vabbè, sotto di me si vede la carica Dei flash e quant'altro Non mi sembra un blocco di memoria Mi sembra un muro Ah, ci provo E lo sapevo Ah no Ma era un muro normalissimo Mamma mia Già il tutorial è terribile Ci sono minacce attive in quest'area Analizza ognuno di esse Per farti un'idea di cosa hai E di cosa dovrai affrontare Analizza una bambola Ehi bambola Ah no, questa devo analizzare Perché questa? Cioè questa è la minaccia Non mi ha detto niente Ah Ma non ho capito comunque la Analisi completata Lei non sente bene E che è qui? Sarà sorda? Che c'ha? Problemi d'udito? Amplifon La storia vera parlava di bambole e basta Cold C'era uno che ha comprato delle bambole Fine No, questo non l'ho mai analizzato E lo sapevo io che colpiscono Quando me lo aspetto Adesso me lo aspetto Eh No Analisi completata Attenzione Questi sono i manichini base Puoi usare facilmente il flash su di loro Tranquilli, tranquilli Con me dovete stare assolutamente tranquilli Senti, in una botte di ferro Io sono bravissimo E non ci prenderemo mai paura Mai Mi ha fatto molto ridere il fatto che ci abbia messo una vita ad uccidere Nonostante abbia cliccato subito Mi sono caccato e ho iniziato a urlare Poi non riuscivo più a fermarmi Era di una telefonata Dai, che stupidaggine È andata così Eh, va bene, ma questa qui è stronza È recidiva Guarda No, dov'è? No, dov'è? Che fa Sei stupida No, vai via Sto lavorando io Sei ancora lì? Sì Sì L'ho vista Niente, mi sta seguendo È una stalker Non posso passare Permesso Non la voglio guardare Non posso andare di qui Ho sbagliato a strada Un walk Succa Ok Lì Devo aprire la finestra Mi serve il passpad too Ma scusa, rincoglionito Non me lo potevi dire prima Vai alla stanza degli oggetti smarriti Sera Tutte e tre Quindi adesso c'ho il trennino conga Tutto Tutto E questa devo sempre flasharla, vero? Ma perché? Mi sembra un po' una troiata questa cosa qui Tutto Allora Adesso ci tranquillizziamo un attimo Perché non posso tirare un urlo Ogni troiata che succede Cioè, ai 30 anni ormai Quasi Manca un po' Però, non è che Lo bisogna fare Perché ho lo schermo giallo? Giustamente Lo schermo giallo perché Un po' di contegno, giustamente Questa è la stanza degli oggetti smarriti Non ho abbastanza ricordi per entrare Devi usare il focus Oh, e finalmente uso il focus Stai guardando attraverso gli occhi da tua inseguitrice Mentre ti concentri puoi ritracciare i ricordi Stai intendo però a ritracciare e tirare l'attenzione Ovviamente È l'anello di Frodo Cioè, cosa dovrei intuire? Ah, lì, lì, credo Quella cosa lì era un ricordo La merda Vabbè, cosa mi faranno mai? Sera Non capisco, devo passare, permesso Mamma mia, che succede? Non capisco, sono state loro? Ok, dov'è che devo andare? Trovo un ricordo Cazzo, ma me lo stavo... Sì, ma dove devo andare? Ma chi? Ma che fole? Ma che fa? Ma che cos'era sta roba qui? E chi l'ha mai vista? Ma che cazzo è successo? Scusami Nooo, inventario smarrito Come? Dannazione, hai perso tutto Ritorna a dove sei morto l'ultima volta e usa il playback Figa però, eh Qui che cazzo c'è? Cos'è sta roba? Registratore La mia morte? No, è Emily questa Ma la testa rovescia Emily Secure station, proteggi il ricordo Tieni Ah, questa è l'infermiera di cui si parla tanto Il tuo ricordo è stato estratto Torna indietro a prenderlo Da chi? 20 18 Perché c'è un countdown? Estrae abbastanza ricordi per sbloccare la stanza degli oggetti smarriti Quanti me ne serve? Uno? Sono abbastanza sicuro di essere passato più volte qui E di non aver trovato una bene amata fava Adesso invece si trova di tutto e di più Qua sì, quanti? Dai, non ne avevo così tanti prima C'è del stesso strano in questo ricordo qui Allora, prima lo devo estrarre e poi riprenderlo Ma ci vogliono 20 secondi per riprenderlo Ma immagino che questa cosa, più avanti nel gioco, vada fatta in maniera rapida Perché altrimenti c'è qualcuno che ci corre dietro Qui ci sono le Kessler invece, che si raccontano i segreti Così è nato il Dadaumpa Eh! Che fa? Ma mi pida per il culo questa qui? Ma siamo pazzi? Tiè! Non niente, le puzza l'alito, si vede Dov'è andata? Eh! A rischio di sembrare noioso e bannabile Vorrei ricordarlo il signore che si tratta di una storia vera, naturalmente Chi è? Chi fu? Dove andò? Prendi? Prendi? Non prende La macchina si sta ricaricando Ma il mio culo si sta ricaricando Adesso posso sbloccare la stanza degli oggetti smarriti Vai! Ma sei che fortezza che dura Oh! No dai, veramente uno a uno Due, giustamente uno Manca l'ultimo Si è incastrato Ok C'è il Passpartout nel regalo Intanto ferma la giusta che mi dà un po' fastidio Gioca al gioco di lei Accendi Mr. Floppy Per quattro Allora, Passpartout è qui dentro Fammi capire Salve signorina, buonasera Attiva luce Le luci rivelano dove si trovano i pezzi del gioco Il tuo punteggio verrà influenzato in base a quante volte le usi E ma ve lo potevi dire prima? Finché non si illumina tutti i Mr. Floppy Che cazzo sono i Mr. Floppy? Uno Due Immagino che siano le volte che passano davanti alla luce Tre E quattro Ah no, forse devo fare la ruota della fortuna e devo fermarlo lì? Cento Che paura Ma veramente Ma che idea era? Era difficilissimo Io pensavo fosse un altro riato Ho detto vabbè Invece era quello Sacchetto in testa E via Cento 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 No Bastarda Cento 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 La tua mamma quella Me l'ha dato Che ravanamenti lì in fondo Guarda Quelle lì sono boobs Diecimila lire Signora Mezzo miliardo Voglio la bici Mountain bike con cambio Shimano Buoni spesa Il gioco della ruota Sì però veramente guarda che questo qui è rotto rispetto agli altri Già agli altri non è che Voglio raddoppiare la mia vincita signor Mike Compro una vocale Passo parola Che fatica eh Hai finito Torna indietro e prendi il passepartout No il passepartout Ok Hai tutto quello che ti serve Ma è solo l'inizio Eh signorina Che dobbiamo fare? Sono fortissimo Guarda Guarda Uso Entro nel camerino Oh 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 Ma sono veramente sexy Per rimettere insieme i pezzi di una storia Nel mondo in cui è stata scritta Se c'è il frammento che vuoi usare Sarà aggiunto il profilatore Non credere a ciò che leggi Ma mi sbatterono tutti la porta in faccia quando? Controlla Ma non ho voglia io di leggere tutto quello lì Ok non voglio prendere quello Voglio salvare Entra Se io faccio campagna Continua Ok buono Ma siamo forse pazzi? E mi ha inculato l'oggetto che c'era qui Scusami Abbiamo rotto il gioco? C'era un oggetto lì prima? Torna nella sala del montaggio Sì Aspetta Nati Non c'è più Ragazzi Si è rotto il gioco Non possiamo più andare avanti Non ce l'ho nell'inventario ragazzi Non ce l'ho Valà valà Chuchu chuchuru 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 Valà vala valà